Chiedo cortesemente se potesse essere aumentata la luce un po' sulla platea. Vi vediamo, non siete come il virus che non si vede. Bene, buonasera a tutti. Anzitutto mi scuso del ritardo del quarto d'ora che noi studenti chiamiamo accademico. Ci siamo dilungati a cena, ho avuto modo di parlare e conoscere meglio la persona di Diego Fusaro. Per iniziare, quello che devo fare è darvi il benvenuto ai dialoghi del crepuscolo. Vedo tanti visi a me ignoti, quindi è d'obbligo direvi un qualcosa di più sui dialoghi del crepuscolo. Sostanzialmente i dialoghi del crepuscolo costituiscono una rassegna culturale che la mia persona ha inaugurato la scorsa estate. I dialoghi del crepuscolo nascono da quello che è il desiderio, l'ho scritto in più sedi e in più momenti, di lanciare un grido in un mondo che è diventato sordo. Perché ho titolato Dialoghi del crepuscolo la rassegna culturale che propongo. Perché per me a livello assiologico, gerarchico, oggi vi è una classificatoria pericolosa. Oggi il dialogo è derubricato a strumento da utilizzare da ultimo. Solo quando sono state esperite tutte le altre vie possibili, una volta battute tutte le strade inimmaginabili, allora parliamo. Vedete, per me è proprio il contrario. È solo l'incontro-scontro, come ho detto, l'unico possibile catalizzatore di ogni progresso politico, sociale, culturale e umano. I dialoghi del crepuscolo fanno proprio questo. Poi perché il crepuscolo? Ne parlavo con Diego perché riprende anche un po' quello che inizia, il crepuscolo degli idoli. Quando sta morendo qualcosa è il nuovo fatica a nascere. Ecco, i dialoghi del crepuscolo si collocano in questo lasso temporale, ecco, ideale. Bene, io invece chi sono? Il mio nome è Lorenzo Valentini, ho 20 anni, a breve ne farò 21. Sono studente di legge a Milano, presso l'Università Luigi Bocconi. Quest'anno mi approprio a fare il terzo anno, come sapete, legge magistrale a ciclo unico, il mio percorso di cinque anni. Collateralmente ai miei studi giuridici porto avanti passioni di ambito eminentemente, esclusivamente culturale, ecco. E sostanzialmente non amo descrivermi, come direbbe Diego, ma non voglio che a farlo siano gli altri, ecco. Mi piace descrivermi, se si può, in negativo, ecco. Io non vi dico chi sono, ma vi dico quello che non sono, e per contrario forse ricaverete quella che è la mia persona. Ecco, e io non voglio più essere io, diceva Gozzano, no? Un qualcosa di simile. Insomma, questo fanno i dialoghi del crepuscolo. Oggi i dialoghi del crepuscolo hanno ospitato tre incontri, quest'agosto. Un primo incontro che ho tenuto con un mio amico riminese, Edoardo Carminucci. Abbiamo parlato di Costituzione ieri e oggi. Il secondo incontro l'ho tenuto in solitario, ho parlato di pensiero ribelle, come qualcuno sa. Ho scritto un saggio che è titolato Fenomenologia del ribelle. Ho preso anche molto dagli studi, le conferenze che ho seguito anche di Diego in questi anni. Una su tutti, di Jünger, il trattato del ribelle, il Valganger, colui che passa al bosco. Devo fare anche qualche parola dell'ospite che abbiamo oggi. Ha fatto la cortesia di presentarsi nel nostro comune. Il personaggio in questione, ai più, sarà noto. Diego Fusaro. Diego Fusaro nasce a Torino nell'83. Poi, insomma, il professore, se sbaglierò, non esiterà a tacciarmi d'errore. Nasce a Torino nell'83. Consegue la maturità classica presso il liceo Vittorio Alfieri di Torino. Valutazione 100 con 100. Convenzione. discute una tesi sul giovane Marx, interprete della classicità greca e specie sul materialismo democriteo e epicureo. Si iscrive poi alla facoltà di filosofia e lettere dell'Università di Torino nel 2002. Nel 2005 consegue la laurea triennale in filosofia della storia, voto 110 lode. e la sua tesi mostra come titolo Filosofia e Speranza, Ernest Bloch e Carl Lewitt, interpreti di Marx. Si iscrive poi alla laurea specialistica in filosofia, storia delle idee, sempre presso l'Università di Torino. Nel 2007 consegue la laurea specialistica in storia della filosofia moderna. 110 lode con dignità di stampa. Discute anche qui in attesi dal titolo Karl Marx e la schiavitù salariata. Uno studio sul lato cattivo della storia. Arriviamo al 2017 quando ottiene l'abilitazione nazionale scientifica in storia della filosofia ed è docente di ruolo presso l'acronomizzato IASP, l'Istituto di Alti Studi Strategici e Politici di Milano. Fonda, e questo è anche uno dei motivi a cui devo la mia conoscenza di Diego Fusaro, fonda e dirige uno dei principali siti internet di italiani di filosofia, la filosofia e i suoi www.filosofico.net che è un punto di riferimento ormai per il dibattito filosofico online. Per quanto concerne i suoi interessi di ricerca, orbitano, gravano attorno a quella che è la storia della filosofia, la filosofia della storia, con particolare attenzione per quello che è il pensiero di Fichte, Hegel, Marx, gentile, la storia dei concetti tedesca. Mi piace pensare di Diego Fusaro come di un intellettuale dissidente, non allineato, al di là di destra e sinistra. Il suo maestro, che poi traduce anche Diego Fusaro, sosteneva l'esaurimento della dicotomia destra e sinistra e De Benoit il primo a parlare di valori di destra e di sinistra. Chissà che questo oggi non sia lo schema possibile. Diego Fusaro è una persona dall'animo, se vogliamo utilizzare il lessico di Jünger, dall'animo sempre pronto a passare il bosco, compiere una secessione individuale e rendere il suo dissenso opera prassiologica. Bene, io questa sera, mi sembra di averlo detto anche all'ultima conferenza, quello che cercheremo di fare, io e Diego Fusaro sarà di scandagliare con delle analisi che cercheranno di essere spietatamente lucide, quelli che sono le contraddizioni del tempo che stiamo vivendo. Noi questa sera faremo e cercheremo altresì di vaticinare possibili scenari futuri. Ecco, quello che faremo stasera è, per utilizzare la formula di Foucault, un'ontologia dell'attualità. Impiegheremo la filosofia, le argomentazioni critiche e sottoporremo a nostra attenzione non già alle verità eterne, no? Non ci chiederemo che cos'è il bene, che cos'è il male, che cos'è Dio, ma porremo attenzione filosofica il tempo in cui stiamo vivendo, di cui siamo abitatori, cercando di indirizzare il nostro futuro verso dei lidi migliori. Ecco, quindi è pensare il proprio tempo nei concetti. Inizio il mio breve intervento citando Spinosa, che tra l'altro Diego Fusaro ha citato pochi giorni fa, se non sbaglio. La frase di Spinosa è la seguente, si governano gli uomini con la paura e la superstizione. Ecco, io credo che la paura sia uno dei grandi sintomi del nostro tempo. L'uomo è circondato dalla paura ovunque, che lo stringe sempre più da presso come una parete. La paura che oggi assume, se ci pensate, delle forme sempre più concrete. Ne sono dominati i nostri dialoghi, i nostri pensieri, i nostri monologhi e forse fino anche i nostri diari. Negli anni in cui l'uomo non possiamo nemmeno oggi più, Diego magari mi smentirà, fidarci del nostro vicino. Ma mi piace pensare che oltre a ciò vi sia un qualcuno che resista, che non ha dimenticato che cos'è la libertà, perché intrattiene un rapporto innattivo con la stessa. Oddio il vento. qualcuno che sia pronto a dare battaglia anche disperata, partecipare contro il nostro tempo e non soltanto questo tempo, ogni forma di tempo. E il potere fondamentale, dicevo, è la paura. E l'uomo che riesce a strappare del terreno, per così dire, alla paura, perdonatemi. L'uomo dicevo che può strappare del terreno, alla paura può riuscire ad abbattere i giganti che con il terrore governano. Ecco, il nostro tempo, io credo, specie nell'ambito del Covid-19 che scandaglieremo, fa leva sulla paura, sulla situazione dell'emergenzialità, sempre con Foucault, vivere pericolosamente. Egli ammoniva. Creare una situazione di pericolosità e paura permanente. Ecco, e questa è la situazione, a mio avviso, del nostro tempo. Crisi in ambito sanitario ed economico, terrorismo in ambito geopolitico. Ecco. E la situazione emergenziale, a mio avviso, fa sì che deliberate scelte politiche vengano presentate come delle necessità sistemiche, senza che ci sia il trapasso della discussione critica e democratica. In nome della situazione emergenziale, occorre per far fronte alla crisi, prendere dei provvedimenti che non sono nemmeno discussi, ma accettati come provvedimenti necessari. Ancora una volta tutto fuorché è politicamente neutro. Capite? La paura quindi come uno straordinario metodo di governo per imporre delle precise linee politiche e far sì che il gregge con ciò accetti di quello che in condizioni normali mai accetterebbe. Ecco, la crisi, dico, perché è un grandioso metodo di governo, no? Perché in qualche misura prospetta sempre una falsa alternativa che in realtà non c'è. Un'alternativa fra A e B, no? Dove B è sempre la fine di tutto, l'oblio, il baratro. E A invece è l'unica possibilità. Ecco che l'alternativa è falsa in partenza, ecco, è già risolta dal potere, no? Dove l'unica via possibile è A, ciò che il potere ha preventivamente predisposto. In questo breve scorcio del mio intervento, prima di lasciare la parola a Diego Fusaro, quello che è il mio studio si muove lungo due direttrici per analizzare la contraddizione di questo tempo. Un risvolto, un vettore, se volete, giuridico-politico e un vettore, una direttrice di ambito invece antropologico-sociologico. Rifacciamo un po' di mente locale. Il 30 gennaio l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, annuncia quella che è l'emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19. Il giorno dopo il Presidente del Consiglio, Conte, dichiara lo stato di emergenza con decreto, poi seguono ulteriori decreti legge di attuazione per contrastare, insomma, la diffusione del virus. Di conseguenza restrizioni, compressioni delle nostre libertà personali, da prima nei territori colpiti, nei cosiddetti focolai, poi ubiquitariamente in tutta l'Italia. Due sono le condizioni, le condizioni sine qua non, diciamo, che fanno sì che tali misure siano conformi a uno stato di diritto. Il presupposto di fatto, che è l'emergenza sanitaria, è la temporaneità. Ecco, il termine emergenza nell'ambito delle scienze sociali è impiegato per descrivere quelle che sono delle situazioni improvvise di difficoltà o pericolo che hanno un carattere tendenzialmente transitorio, no? Che implica una crisi di funzionamento delle istituzioni che vengono sospese nel loro funzionamento nell'ambito di quella che è poi una determinata compagine sociale. E questo termine, trasposto in termini giuridici, si chiama stato d'eccezione. Un'espressione, lo stato d'eccezione, che è accompagnata da una indicibile, ineffabile, vorrei dire, ambiguità terminologica e semantica. Ecco, ambiguità che sono determinate dal fatto dell'impossibilità di ricondurre ad un'unica figura le moltiplici situazioni emergenziali. Ecco, lo stato d'emergenza, di cui si parla tutti i giorni, costituisce una macroarea dello stato d'eccezione. Ecco, lo stato di eccezione si contrappone a quello che lo stato di diritto, proprio perché si configura come una situazione in cui il diritto è sospeso. Ecco, lo stato di emergenza consta di quattro momenti fondamentali. Il presupposto di fatto, la delimitazione dell'emergenza non deve essere dovuta da una valutazione politica sui generis, ma deve essere ancorata ad un presupposto fattuale, ecco, per procedere all'adozione di queste misure straordinarie. Il secondo momento fondamentale è un atto di proclamazione, l'atto di proclamazione funzionale a quella che è la delimitazione temporale dell'emergenza. Ecco, la concreta attuazione, quindi l'emanazione, insomma, dichiarato lo stato di emergenza, si emanano le misure necessarie, è possibile attuare dei limiti alle nostre libertà personali, ma senza, diciamo, andare a invalidare, andare a intaccare quella che è il nucleo duro dell'ordinamento giuridico di cui vi parlerò a breve. E da ultimo, l'ultimo momento dello stato di emergenza è la cessazione degli effetti e il contestuale ripristino del precedente ordine che è stato sospeso. Recita la legge che la durata, ne parlavamo prima anche a tavola, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza è di 180 giorni, sei mesi, ed è prorogabile per un massimo di altri 180 giorni, sei mesi. La delimitazione necessaria perché è fatta? Perché è fatta questo tipo di delimitazione temporanea? Per evitare che lo stato di emergenza si trasformi in un colpo di stato. Ecco, uno stato di diritto, per definirsi tale, deve andare a limitare quello che è il potere sovrano e questa limitazione deve essere garantita anche in delle situazioni emergenziali, sia pure in forme diverse, oggi parlano di legalità dai poteri eccezionali. Ecco, diciamo che anche in una situazione emergenziale come la seguente, anche quando è la necessità, come in questo caso fonte del diritto, quando è la necessità che si fa legge, anche la necessità incontra dei limiti, ecco, limiti che debbono ravvisarsi nei principi generali del nostro ordinamento giuridico, per cui le misure devono essere generiche e astratte, limitate nel tempo, non possono essere retrattive, debbono essere motivate e da ultimo, e qua vorrei battere l'incudine, devono essere proporzionate, ecco, proporzionali rispetto allo scopo che si prefiggono. Di qui il bilanciamento fra che cosa? Fra emergenza sanitaria ed emergenza economica. E a voi sembra che il bilanciamento sia attuato in modo corretto? Ecco, domanda che pongo. Come sapete lo stato di emergenza è stato rinnovato dal nostro Consiglio dei Ministri e ha permesso all'Esecutivo di intervenire su tematiche che in regime ordinario sono tematiche sottoposte a riserva di legge, no? Limitazione delle nostre libertà personali, sorveglianza. Ecco, la condizione non ordinare di emergenza per sua natura si deve porre come una condizione che è temporanea. L'emergenza deve avere una fine, ecco, è insito nella sua stessa essenza. Ma la particolarità della minaccia sanitaria è quella di presentarsi indebitamente come una minaccia a carattere permanente. Ecco, i contagi si susseguono in maniera imprevedibile, in maniera sempre diversa. Ciò nonostante tutto ciò che dicevo emergenziale deve arrivare a termine. E a questo proposito è opportuno parlare, qua mi farà diciamo le doppie Diego, di normalizzazione dell'emergenza. Si utilizzano delle misure che nascono temporanee che poi vengono inserite nel diritto ordinario e passano per così dire in sordina. Ecco, per quanto concerne i risvolti antropologici, a mio avviso stiamo osservando, stiamo assistendo tacitamente alla trasformazione di tutte le nostre relazioni familiari e personali, a una riformulazione totale del rapporto Stato-Cittadino, a un mutamento dei concetti di responsabilità, di bene comune, di conflitto, di solidarietà, i rapporti tra globale e locale. Una motovorfosi che potremmo definire kafkiana, che travolge l'emergenza sanitaria, che viene politicizzata a documento della classe lavoratrice privata. Ecco, io sostengo che la democrazia non può e non deve essere commissariata. Ecco, questa falsa retorica dei tutti uniti contro il nemico comune, temo che non sia destinata a durare. Ecco, e lo Stato non può fare molto altro per tenere insieme un tessuto sociale che è sempre più disgregato. Ecco, se non è supportato da quello che è un lavoro capillare e concentrato a livello civile, sociale. Ecco, è in corso insomma, a mio avviso, quello che dicevo, un tentativo di mutamento antropologico, indotto, innaturale, che metterà fine all'idea di uomo di cui siamo figli, a cui siamo abituati. Una nuova normalità, normale vorrei dire, amarsi a distanza, lavorare in smart working, come amano dire, lavoro agile, salutarsi con il gomito, baciarsi con la mascherina. Ecco, è una disumanizzazione fortissima dell'essere umano. Dall'umanesimo di Petrarca passiamo all'uomo bionico. Insomma, l'uomo non è solamente unità biologica, ma è un complesso di riducibili pulsioni, energie sotterranee, non è condensabile in delle nomenclature formaliste e sintetiche. E a chi risponde alle argomentazioni mie e di Diego che adduciamo in questa serata, a prioristicamente, a criticamente, beh, io rispondo con le parole che il Cervantes mise in bocca al Don Quixote. Ci abbaiano, Sanzo, segno che stiamo cavalcando. Lascio la parola adesso a Diego Fusaro. Vi ringrazio per il gentile ascolto. Grazie, grazie Lorenzo di questa tua preziosa analisi. Hai inquadrato molto bene l'argomento. Ti ringrazio ovviamente per aver organizzato questo evento perché vi è bisogno di tornare a discutere insieme dei grandi temi e per insieme intendo di presenza come comunità umana e non soltanto a distanza tramite terminali e connessioni. Dico subito che il tema in questione, l'emergenza nella quale ci troviamo legata al Covid-19 pone almeno una duplice difficoltà. In primo luogo la difficoltà sta nel fatto che nell'analizzare criticamente questi temi già si procede controcorrente e si deve quindi fronteggiare necessariamente il muro compattissimo del pensiero unico che non è più solo politicamente corretto ma ultimamente è divenuto anche terapeuticamente corretto. Un pensiero cioè granitico, non fessurizzato, impermeabile, che subito respinge chi non sia adesso omogeneo con altrettante categorie di una neolingua che è insieme politicamente corretta e terapeuticamente corretta. Negazionismo è una delle ultime categorie invalse nel dibattito pubblico oggi in Italia e non solo in Italia, la cui funzione, capite bene, non è certo quella di inquadrare concettualmente un fenomeno e magari anche alimentare un dibattito socratico su temi di rimenti. Al contrario, come sempre avviene con le categorie di cui si struttura la neolingua, l'obiettivo è quello di diffamare, silenziare, ostracizzare l'interlocutore impedendo ogni reale dibattito e sempre riaffermando con forza la tesi dominante che si presuppone essere l'unica, valida, indiscutibile e quasi sacrale da un certo punto di vista. Questa è la prima difficoltà che incontriamo ogni qual volta aspiriamo a discutere criticamente dei temi di cui ci accingiamo a discutere questa sera. La seconda difficoltà connessa alla prima è che ovviamente ciò di cui stiamo discutendo non è una realtà già compiuta e sedimentata, alla quale guardiamo con un sguardo retrospettivo ricostruendo una vicenda. La realtà di cui stiamo parlando è la realtà nella quale ci troviamo a vivere, è una realtà in fieri, in sviluppo, è la nostra realtà quotidiana e se come diceva Hegel la filosofia il proprio tempo ha preso nel pensiero ovviamente abbiamo qui un gran lavoro filosofico da fare, una grande fatica del concetto da compiere, ben sapendo sempre tuttavia che la filosofia, diceva ancora Hegel, è come la nottola di Minerva, spicca il suo volo sul far della sera, riflette su realtà già compiute, stabilizzate, sicché si trova particolarmente in difficoltà quando deve invece prendere in esame ed eleggere a proprio oggetto di analisi una realtà diveniente, una realtà nella quale appunto ci troviamo oggi tutti quanti e che costantemente muta, costantemente si svolge e subisce modificazioni a tal punto che ciò che diciamo questa sera potrebbe già essere invecchiato domani mattina. Consapevoli di ciò accingiamoci a svolgere alcune spigolature intorno al tema in questione, io non pretenderò assolutamente di essere esaustivo come potrei nel breve tempo che ci siamo assegnati, pretendo invece di svolgere alcune considerazioni a mo' di esortazioni alla riflessione critica, ecco quelli che propongo sono altrettanti morsi o altrettanti scossoni elettrizzanti come quelli della torpedine di cui diceva Platone, il pensiero critico deve essere come una torpedine che ci risveglia e ci elettrizza. Parto da una considerazione che vorrei assumere un po' quasi come se fosse la stella polare della nostra navigazione serale ed è una considerazione del grande filosofo moderno Michel de Montaigne il quale diceva che la paura è la cosa di cui ho più paura. Noi dobbiamo aver paura della paura che sta lentamente ma inesorabilmente impadronendosi di tutti noi, anche di coloro i quali fino al giorno prima esercitavano una capacità critica non indifferente e che oggi dinanzi all'emergenza nella quale ci troviamo hanno dato il loro addio alle armi e sono rifluiti nel coro virtuoso di coloro i quali cantano con il politicamente e terapeuticamente corretto. Bisogna quindi sospendere la paura e tornare a ragionare lucidamente su quello che sta avvenendo. ben consapevoli del fatto che se oggi un dibattito serio scientifico analitico disincantato sui temi in questione manca ciò dipende anche non solo dalla presenza massicce dominante del pensiero unico terapeuticamente corretto ma anche sinergicamente dal dominio di passioni e di emotività che impediscono una lucida e razionale analisi. Molte volte le risposte che riceviamo alle nostre analisi, alle nostre proposte di critica, sono risposte non razionali, sono risposte puramente emotive, comprensibili anche in relazione a ciò che sta avvenendo ma che mai possono ambire allo statuto di una riflessione critica e razionale. Qualcuno ha notato anche che il nostro è il tempo in cui la politica della ragione è sostituita o tende a essere sostituita dalla politica dei sentimenti e degli affetti immediati, immagini che smuovono i nostri animi, narrazioni che hanno il solo obiettivo di toccare i nostri cuori ed è così che naturalmente ci troviamo a dover rispondere alle accuse di chi di fronte al nostro argomentare placido, razionale, disposto al dialogo, dice, sbotta, ma cosa diciamo dei morti di Bergamo? Cosa diciamo di chi è in terapia intensiva? Cosa diciamo di un virus che genera morti su morti? Ebbene, noi manteniamo la fredda e lucida considerazione razionale. Con Spinoza, che prima veniva evocato, procediamo senza ridere, senza piangere, senza disperare, ma con la pretesa di capire. Questo è il punto di partenza di ogni ragione critica. Per farlo allora bisognerebbe anzitutto chiedersi se quella che si sta impadronendo di noi è paura o non è invece angoscia. I due termini solo in apparenza potranno essere intesi come sinonimici, essendo in termini filosofici la paura sempre rivolta a un oggetto specifico e circoscritto e l'angoscia invece essendo rivolta a qualcosa di indefinito. L'angoscia è la paura che non ha un oggetto specifico. Quella che noi stiamo vivendo in questi tempi di Covid-19 non è paura, è angoscia, perché non ha mai un oggetto specifico, non ha mai un oggetto reale. È l'angoscia di chi prova paura per qualcosa di indefinito e che quindi non riesce mai a liberarsene. Questo è un altro dispositivo tipico della nostra situazione, mantenere viva un senso di angoscia in nome del quale prevalgano le emozioni sulla ragione in modo tale che la nostra capacità critica di avvalerci della nostra testa, pensare con la propria testa, il motto nobile che canta segnava l'illuminismo, sia soppiantato dall'emotività puerile di chi anziché ragionare si lascia smuovere solo dalle emozioni e dalle pulsioni. Che sia in atto in Occidente, o almeno nel quadrante del mondo che abitiamo, una sorta di reductio ad pueritiam della politica è suffragato oltretutto da tutta una serie di nuovi protagonisti della politica che si muovono puntualmente sempre nello spazio emotivo e non razionale a cui facevo prima riferimento. Il punto di partenza per inquadrare il kaleidoscopio di eventi e di problemi legati all'emergenza Covid-19 sta nella comprensione di quello che definirò il paradigma securitario, senza comprendere il quale non si comprende, non dico poco, ma nulla di quello che sta avvenendo. In estrema sintesi per paradigma securitario intendo un preciso modo di governo, una precisa arte governamentale del liberismo. A sua volta intendo genericamente il liberismo come la razionalità politica dei mercati e per i mercati. Il liberismo è quella razionalità politica dominante dopo il 1989 che pensa che il mercato, lo scambio di merci, la valorizzazione del valore sia la principale quando non l'esclusiva sorgente di senso a cui tutto deve sottomettersi e piegarsi. Ora il liberismo ha una specifica modalità di funzionamento che si è appalesata specialmente negli ultimi vent'anni, che ha trovato il proprio luogo epifanico ed epifenomenico anche al tempo stesso, in tutta una serie di eventi che hanno costellato il nostro presente, il nostro passato più immediato e che ora richiamerò brevemente. Il luogo epifanico di questa nuova modalità di governo che utilizza il paradigma securitario verrà subito chiarito. Permettetemi però in anticipo di chiarire cosa intendo per paradigma securitario in maniera immediata lineare senza troppe perifrasi. Il paradigma securitario si dà nella forma di un teorema che è così compendio. Se volete la sicurezza dovete essere disposti a rinunziare a quote più o meno estese, variabili di libertà e di diritti. Troppa libertà non garantisce la sicurezza sicché sulla bilancia da una parte abbiamo la sicurezza e dall'altra la libertà e per garantire la sicurezza, sia essa la sicurezza economica, la sicurezza rispetto al terrorismo o ultimamente la sicurezza rispetto alle emergenze sanitarie, occorre essere disposti di buon grado a cedere quote di libertà. Continuamente ritorna questo paradigma che può spaziare dai controlli capillari negli aeroporti dopo l'11 settembre, all'invasività nella privacy sempre subentrata dopo l'11 settembre, fino a culminare nel lockdown o confinamento o arresti domiciliari che si sono registrati tra marzo e aprile. In questo caso il paradigma è evidente, è subito automanifestativo per garantirvi la sicurezza esistenziale rispetto alla crisi pandemica, vi rimuovono fino addirittura alla libertà di movimento, che intendiamoci non è una libertà marginale, è una libertà che occupa un posto centralissimo nella nostra carta costituzionale. Ecco questo è il paradigma sicuritario. Il paradigma sicuritario per funzionare a sua volta ha bisogno della crisi, dell'emergenza, dello stato d'eccezione. Perché? Per l'ovvia ragione che se vi avessero detto, supponiamo, nell'ottobre del 2019, da domani per essere più sicuri non uscite più di casa, verosimilmente molti di voi, se non tutti, si sarebbero adombrati e magari anche avrebbero intrapreso la via dell'indocilità ragionata. Occorre perché il paradigma sicuritario si imponga che si dia anche l'emergenza, di modo che ciò che nella normalità è politicamente inaccettabile divenga nella crisi politicamente inevitabile. Se c'è l'emergenza, se si vedono le bare in successione essere trasportate a Bergamo, se si vedono continuamente narrazioni che accentuano a dismisura l'emergenza, se continuamente prevale una narrazione centrata, e tornerò su questo tema, sull'idea dello scenario peggiore possibile, è chiaro che scatta l'angoscia di cui dicevo, scatta l'idea di emergenza e si è disposti ad accettare ciò che nella normalità non solo non verrebbe accettato ma sarebbe anche con veemenza contestato. Ecco perché l'emergenza, la crisi, svolge un ruolo decisivo, dirimente per le politiche liberiste, le quali politiche liberiste non ne fanno mistero. Come vedrete non ci sarà nulla di complottista, altra parola chiave della neolingua in quello che dirò. Quello che dirò sarà puramente razionale, argomentato, se qualcuno vorrà confutarlo io sarò tutto orecchio e sarò anzi felice di essere confutato, stante il fatto che, come diceva Socrate nel Gorgia, è ancor meglio essere confutati che confutare, perché così ci si libera dall'errore, si addiviene insieme alla verità. Tutto quello che dirò, anche espressioni che saranno a tutta prima ardite come regime, saranno espressioni che troveranno un loro puntuale riscontro, addirittura nelle parole di quelli che sono fautori di questa situazione. Se parlo di regime terapeutico, molti magari balzeranno sulla loro sedia increduli dinanzi a un'espressione che pare esagerata. Eppure, proprio non distante da qui in Emilia Romagna, qualcuno parlò, maggio 2020, dell'esigenza di dare il segno di un regime molto stringente. Se ci impedirono, apprendiamo, di fare le corse, non è perché vi fosse realmente l'esigenza di impedirlo, ma perché, cito, volevamo dare il segnale, il senso di un regime molto stringente. Ora, se le parole conservano ancora un loro significato, un regime molto stringente significa esattamente quello che dice la parola stessa, un modo di governo che limita le libertà, comprime i diritti. E lo fa, naturalmente, non perché sia autopresenti come regime in quanto tale, ma giustificandosi in nome del paradigma securitario. C'è la crisi? Per garantirvi la sicurezza vi chiediamo di rinunziare alla vostra libertà, ma non per sempre, nello spazio temporale dell'emergenza. Già, ma cosa accade se l'emergenza si fa essa stessa infinita e diventa nuova normalità? Cosa accade se l'OMS, che ha temporaneamente sostituito il Fondo Monetario Internazionale come paradigma centrale della mondializzazione mercatista? Cosa accade se l'OMS dice che questa pandemia durerà anni o che comunque sono già in agguato nuove pandemie all'orizzonte? Si parlava già di topi di Hong Kong e di maiali di Taiwan a maggio, ricorderete. Accade che ciò che si giustifica nel tempo limitato dell'emergenza finisce per normalizzarsi in concomitanza con il normalizzarsi dell'emergenza stessa. Succede che la vecchia normalità è scardinata da una nuova normalità, come già il logo unico terapeuticamente corretto la chiama. Ecco, uno dei grandi protagonisti della stagione del liberismo economico, ma anche del nuovo liberismo terapeutico, e non vi stupirete se occupa un ruolo centrale e nel primo e nel secondo. Alludo a Mario Monti, l'uomo dei mercati, colui il quale fu piombato dall'alto dall'Unione Europea per gestire le riforme lacrime sangue che erano richieste da Bruxelles, con taglia alla spesa pubblica e massacro dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Mario Monti, che ora occupa un posto centrale per quel che riguarda l'OMS in Europa, come ben sapete, essendo stato nominato esponente all'interno dell'OMS, quale sia l'idea di sanità di Mario Monti è presto detto ovviamente, è la solita idea liberista, razionalizzazione mercatistica, spending review e così via. Mario Monti nel 2011, in un suo preciso e debbo dire onestissimo negli intenti di dire ciò che pensava, intervento all'Università Lewis di Roma, disse che vi è bisogno di crisi per far fare passi in avanti per quel che riguardava le cessioni di sovranità. In quel caso si parlava ovviamente di cessioni di sovranità economica, anzitutto, e politica. Alludeva il fatto che Roma doveva cedere sovranità a Bruxelles. Ma lo stesso paradigma ritorna oggi nell'ambito della sovranità della libertà individuale e popolare, se vogliamo dire così. C'è bisogno di una grande emergenza per favorire cessioni di sovranità che nella normalità mai verrebbero concesse. Ecco allora che la crisi diventa un preciso metodo di governo, che sia la crisi economica, che sia la crisi terroristica, che sia la crisi sanitaria. E tutte le crisi, peraltro, con le loro misure emergenziali annesse, hanno sempre la spiacevole tendenza a persistere, a sedimentarsi anche per il post crisi. Voi ricorderete senz'altro che dopo gli attentati del 2001 subentrò una panoplia di controlli e misure di sicurezza negli aeroporti che, lungi dall'essere venute meno con il rientrare della crisi, ancora oggi sono operative. Per questo essenzialmente è da pensarsi che anche dopo questa crisi, quando sarà il dopo questa crisi, molte delle misure emergenziali persisteranno e il modello di società che si sarà affermato durerà anche dopo la crisi. In sostanza il paradigma della crisi è in estrema sintesi il seguente e l'ha ben formulato nei suoi corsi sulla nascita della biopolitica Michel Foucault. Il paradigma fondamentale della crisi come metodo di governo è duplice. Vivere pericolosamente è non via alternativa. Vivere pericolosamente significa che essenzialmente la crisi fa sì che la vita sia costantemente in pericolo. Vuoi perché ci sono gli attentati? Vuoi perché c'è l'austerità e la crisi economica che diventa un cappio per i popoli che la subiscono? Vuoi perché c'è la crisi emergenziale che mette a rischio le nostre esistenze? Vivere pericolosamente, nella paura o meglio nell'angoscia, come dicevamo. Il secondo punto, che ben Foucault mette anche in luce, ma che poi è stato canonizzato da Margaret Thatcher, che non per caso è stata la vestale del liberismo in Europa, there is no alternative. Non c'è alternativa. Il paradigma della crisi è quello che opera, si dispiega, neutralizzando la possibilità di essere altrimenti. La crisi impone sempre come necessità sistemica quello che in realtà è un ordine politico a beneficio del polo dominante e a nocumento del polo dominato. La crisi fa sempre sì che la necessità preordinata e decisa dalla classe dominante appaia come l'unica via percorribile. Istituisce una falsa dicotomia tra un A e un B, dove in realtà il B significa morte certa, fallimento, fine di tutte le cose, sicché occorre percorrere necessariamente la via A, presentata come l'unica. Di più occorre percorrere la via A senza neppure discuterla democraticamente. La crisi come metodo di governo ha come proprio presupposto la marginalizzazione crescente e tendenzialmente totale dei parlamenti come luogo di discussione democratica. Se vi è l'emergenza, ogni discussione parlamentare diventa un'inutile e tendenzialmente pericolosa perdita di tempo. Occorre decidere nell'immediatezza, nell'ic et nunc, ed è per questo che non vi è spazio per il Parlamento, ma subentrano le task forces, comitati non eletti e non votati da nessuno, si precipita in una situazione di tipo post-democratico. Tra l'altro ho fatto breve cenno alle tre principali crisi come metodi di governo che abbiamo avuto in questi concitati anni post-1989. Crisi terroristica, crisi economica e crisi sanitaria. I moduli, come avete visto in larga parte, e stanti le differenze che pure vi sono, presentano molte analogie fra loro. Paradigma securitario, per avere salva la vita dovete rinunziare a quote importanti della vostra libertà, vivere pericolosamente, non ci sono alternative, ma anche tra loro le figure interessate hanno tutta una serie di punti di tangenza molto interessanti. Vi faccio alcuni esempi molto celeri e immediati. Ricorderete che uno dei mantra costanti dell'emergenza economica era quello per cui bisognava tenere i conti in ordine. Se non si fossero tenuti i conti in ordine sarebbero stati guai per i popoli in questione, modalità popolo greco. La Grecia non ha saputo tenere i suoi conti in ordine, dice la raison liberista, e quindi ora occorre che la Grecia vada espiando le proprie colpe con la sanità repressiva e depressiva, con l'austerità repressiva e depressiva, con le misure disciplinari imposte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale Europea. Come disse Juncker, un altro del Pantheon degli Euroinomani di Bruxelles, disse testualmente, non c'è scelta democratica che valga a interferire con i trattati europei. Non c'è scelta democratica che valga a interferire con i trattati europei. Bene, abbiamo visto questo paradigma tornare, anzi, sta tornando anche in queste ore mentre stiamo tra noi amabilmente parlando, il paradigma per cui bisogna tenere i conti dei contagi in ordine. Ritorna questa narrativa, se non tenete i conti dei contagi in ordine, voi impenitenti assassini della pericena, voi sciagurati e stralunati frequentatori dei navigli di Milano, si tornerà al lockdown, si tornerà alla fase 1 e quindi bisognerà tornare all'austerità depressiva e repressiva, non economica ma sanitaria in quel caso. Ma la narrazione è esattamente la stessa, colpa e debito, colpa e debito. In tedesco sono dette con la medesima parola, schuld, la colpa che è debito e il debito che è colpa. Fate dei debiti contagi aumentano e quindi dovete espiare la colpa con le misure repressive del capitalismo terapeutico, come io lo chiamo. Prendiamo un'altra figura interessante, anzi direi nodale per capire tutto ciò che sta avvenendo, che è la figura dell'asintomatico, è la figura chiave del nuovo capitalismo terapeutico. L'asintomatico è in estrema sintesi colui che ha il virus in corpo, benché non ne dia manifestazione. L'asintomatico è potenzialmente ciascuno di noi, il contagiato e contagiatore che non si vede. Ma ricorderete che anche ai tempi del terrorismo islamico ciascuno di voi poteva essere un terrorista nascosto che non si vedeva, proprio come l'asintomatico e quindi nessuno era al sicuro, di nessuno ci si poteva affidare. L'emergenza era sempre tra noi quando anche non la si fosse vista direttamente. L'asintomatico siamo noi, omnes et singulatim, tutti e ciascuno siamo asintomatici e quindi subentra un clima di emergenza perpetua. L'asintomatico è la categoria con la quale si scardina la socialità, si distrugge ogni forma di comunità, subentra il nuovo paradigma del capitalismo terapeutico. Il vecchio capitalismo classico si fondava sul motto attribuito a Tommaso Hobbes, homo homini lupus. L'altro è tendenzialmente un lupo da cui bisogna guardarsi e con il quale bisogna entrare in relazione, diranno dopo Hobbes i teorici della moderna economia classica, bisogna relazionarsi con l'altro solo per ottenerne benefici economici, come nella società di Adamo Smith. Mi rivolgo al birraio e al macellaio, benché siano lupi, semplicemente per avere la birra e la carne e loro mi danno tali materie per avere l'equivalente monetaria, una società insocievole se volete, una società di egoismi generalizzati, di lupi che si aggregano tra loro solo temporaneamente per scambiare merci. Ecco, il nuovo motto del capitalismo terapeutico è homo homini virus. Ciascuno di noi è un virus per l'altro, ciascuno di noi deve mettere la mascherina e deve sanificarsi di continuo, deve tenere a distanza l'altro, il distanziamento sociale. Tornerò su questa categoria neo-orwelliana che ha invaso le nostre vite. In sostanza il nuovo capitalismo terapeutico disgrega ogni forma di socialità, è il compimento del grande sogno del capitale. Il capitale viene al mondo nella modernità con un problema fondamentale che è la sua croce. Come distruggere tutte le comunità religiose, etiche, amicali, politiche, solidali per creare una società di atomi sradicati e concorrenziali che si relazionino fra loro solo in nome del doubt des mercantile. Con il paradigma dell'homo homini virus il capitale ci è riuscito appieno per la prima volta. Ricorderete che durante la triste epoca del confinamento, marzo-aprile 2020, le uniche relazioni consentite erano quelle al supermercato. Voi non potevate trovarvi in piazza, non potevate trovarvi con i vicini e con gli amici, non potevate frequentare le chiese, potevate solo dar vita a quella relazione che Carlisle chiamava il cash nexus. Neanche più cash in realtà perché ormai solo con carte e tracciabilità bisogna relazionarsi nell'ambito delle merci anche, ma ad ogni modo l'unica relazione consentita era quella mercantile. Homo homini virus significa la disgregazione della società, significa creare un nuovo leviatano terribile che essenzialmente esercita una potenza illimitata su di noi. La conseguenza, una delle conseguenze che mi preme far emergere è che è annientato ogni spazio pubblico. Lo spazio della pubblicità intesa come spazio pubblico, piazze, chiese, luoghi di incontro, luoghi di manifestazione del dissenso, sono interdetti. Tutto è risolto nello spazio chiuso della propria dimora che diventa una sorta di caverna platonica individualizzata in cui si era inchiusi e non si può uscire e l'unica fessura che apre al mondo è data dalla televisione o da quello blò sul mondo che ci portiamo in tasca e che va sotto il nome di telefono cellulare. Il nostro rapporto col mondo era totalmente mediato dalla narrazione che parlava di un mondo al quale non avevamo più accesso, chiusi in casa, e del quale dovevamo fidarci di ciò che diceva la narrazione terapeuticamente corretta. Non avevamo contezza, l'essere era risolto nel percepire. La realtà esterna non c'era più, c'era la realtà mediata dagli schermi, dal fondo della caverna individualizzata platonica in cui eravamo, con un paradosso tra l'altro. La vita era condannata alla sua privatezza, eravamo tutti rinchiusi in casa, ma al tempo stesso la sfera della privatezza era resa sempre più pubblica, cioè permeata e invasa dalle logiche del controllo. Droni e tracciabilità, applicazioni, addirittura l'idea malsana balenata in più momenti, anche all'OMS, di andare a stanare i positivi nei nuclei familiari per portarli fuori, andarli a stanare nelle case, anche in Italia qualcuno menzionò questa espressione, andarli a stanare, violare lo spazio sacro della casa. Anche con il lavoro, detto ora smart working, il telelavoro, presentato come il nuovo Eldorado, significa l'invasione del mondo del lavoro nello spazio sacro della dimora, significa l'annullamento di ogni confine tra tempo della vita e tempo del lavoro, significa di fatto la neutralizzazione di ogni spazio sociale, l'invasività della logica del capitale in ogni ambito. Ecco, da questo punto di vista, ripeto, la nuova società che sta prendendo forma è la società basata sul distanziamento sociale. Il distanziamento sociale è la categoria più centrale per comprendere ciò che sta avvenendo, è una società in cui l'altro è sempre potenzialmente un virus, come dicevo, dal quale bisogna guardarsi, mantenendo le distanze. Ora voi capite bene che nel quadro di una società centrata sul distanziamento sociale, che nella sua forma massima si chiama lockdown. Il lockdown che cos'è? È il distanziamento sociale nella sua fase più acuta. Bene, una società basata sulla contactless society, dove non c'è più l'altro ma ci sono solo schermi con immagini e simulacri dell'altro. Una società in cui c'è la distanza sociale e il divieto di assembramento, che è una formula tipica di ogni regime novecentesco, si va ad il divieto di assembramento, tornerò su questo tema, in una società di questo tipo non può esservi alcun moto di contestazione politica dell'ordine esistente. È una società in cui l'individuo è isolato e annullata la possibilità stessa di quella che Leopardi chiamava la social catena. Si è isolati dall'altro. E il paradosso è che ci viene chiesto di essere civici, super civici, amanti della società rispettando norme sociali che escludono la società. Questo è il paradosso. Oggi il cittadino modello che viene celebrato dalle centrali del politicamente e terapeuticamente corretto è quello che distrugge la socialità, è quello che si distanzia, che non si avvicina all'altro, che lo esclude. È una religione particolare quella del capitalismo terapeutico, è una religione che esclude l'altro e che dice di rispettarlo e di amarlo nella misura in cui lo elimina, lo esclude dalla relazione. Ecco, la domanda che dobbiamo porci e non possiamo non porci noi che ci occupiamo di filosofia e naturalmente a quanti diranno con un ghigno sulle labbra ma vi occupate di questioni mediche, voi non siete medici. Attenzione, noi non ci stiamo qui occupando di questioni mediche, qui ci stiamo occupando di questioni che riguardano la vita di tutti, di questioni politiche, sociali, economiche. Ed è un grave errore pensare che la figura del medico, che pure svolge una sua parte rilevante, ineludibile, sia la sola titolata a occuparsi di questa vicenda. Tornerò anche su questo inquietante aspetto. Abbiamo visto le tribù dei camici bianchi che pontificavano di questioni che solo prima facie erano mediche, ma che trapassavano senza soluzione di continuità nello spazio della politica. Abbiamo anzi assistito a un pericoloso, a mio giudizio, movimento di circolarità fra politica e medicina. I medici diventavano politici e i politici diventavano medici. Nelle Puglie, ad esempio, troviamo adesso alle elezioni due virologi che si candidano, perché il medico diventa immediatamente politico, ma la politica stessa diventa medica. Quando a marzo subentra un decreto che si chiama Cura Italia, siamo di fronte a una politica che ha metabolizzato financo il lessico della medicina, ma soprattutto norme come quella del distanziamento sociale, del lockdown, del divieto di assembramento, sono mediche o sono politiche? Questa è la domanda. Quando voi sentite in prima serata tv il noto virologo Pregliasco, 25 aprile 2020, dire dipendesse da me il lockdown dovrebbe durare più a lungo, dipendesse da me l'app immuni dovrebbe essere obbligatoria, sta svolgendo un discorso medico o politico? Questa è la domanda che dobbiamo porre. Non sarà sfuggito a coloro che io chiamo gli apoti, quelli che non se le bevono, non sarà sfuggito il fatto che tutte queste norme sono mediche e insieme politiche, o più precisamente veicolano un contenuto schiettamente politico dietro una narrazione, una razionalità che è solo in apparenza, o comunque non soltanto medica. Dico solo in apparenza perché si danno casi conclamati in cui la razionalità medica era solo un paravento e che qualora fosse entrata in contrasto con la razionalità politica liberista, ebbene sarebbe stata quest'ultima a prevalere. Vi faccio un solo esempio. I verbali desecretati, cinque dei verbali desecretati, ci rivelano chiarissimamente che un comitato tecnico-scientifico aveva dato parere negativo per il lockdown generalizzato e non di meno il governo l'ha attuato. Questo vuol dire, in termini sillogistici direi, una cosa sola, che il lockdown è stato fatto non per ragioni tecnico-scientifiche, ma per ragioni di altro tipo, politiche evidentemente. È chiaro, se il comitato tecnico-scientifico dice di non fare il lockdown e il governo lo fa, lo sta facendo non per ragioni tecnico-scientifiche, ma per ragioni di altro tipo. Questo è evidente, è nella logica stessa delle cose, inconfuttabilmente. Ecco, da questo punto di vista bisognerà allora porre la domanda fondamentale. Cui protest? Perché tutto questo? È una casualità? Non è una casualità? La tesi che vi propongo è che essenzialmente nella storia non c'è mai un puro decisionismo di gruppi stretti rinchiusi nelle loro stanze, ma non c'è neppure mai solo l'accidentalità dell'accadere. Forse la storia è data dall'incontro tra fenomeni accidentali e classi dominanti che fanno, nel caso specifico, la loro storia sfruttando le occasioni vantaggiose. Parlo della storia fatta dalle classi dominanti perché è innegabile che dopo il 1989 la lotta di classe è gestita dall'unica classe dominante, composta da una cinica schiera di squali della finanza, di apolidi delle banche, di signori dell'e-commerce, che gestiscono la loro lotta di classe massacrando univocamente e spietatamente quelle che io chiamo le classi che vivono del loro lavoro, cetimedi, proletari, precari, piccola impresa locale e così via. Bene, in questo scenario possiamo dire, credo, che il virus ha rappresentato nella migliore delle ipotesi una grande occasione per le classi dominanti, nella migliore delle ipotesi vorrei dire, per poter gestire una transizione autoritaria e verticistica. Ora prendo dalle analisi dei quaderni del carcere di Antonio Gramsci un passaggio che ritengo nodale per comprendere tutta la questione. Gramsci dice che la classe dominante quando ha, oltre al dominio, il consenso non ha bisogno di ricorrere alla violenza e all'autoritarismo perché i dominati sono consenzienti rispetto al dominio che subiscono, amano le loro catene, subiscono passivamente il dominio. Cosa accade però quando la classe dominante ha il dominio ma comincia a perdere il consenso? Cosa accade? Accade che la classe dominante per mantenere il dominio in assenza del consenso o con un consenso periclitante deve ricorrere alla violenza e all'autoritarismo. Ora io sono convinto che nel quadro della nuova globalizzazione post 1989 negli ultimi cinque anni almeno stessero maturando le precondizioni per una coscienza oppositiva rispetto alla globalizzazione capitalistica. Una forma, un bagliore lo chiamerei, i primi bagliori di una coscienza oppositiva non coerentizzata che si esprimeva in forme spesso acerbe e non coerentizzate e che venivano puntualmente demonizzate e stigmatizzate dalla classe dominante e dagli intellettuali al guinzaglio di suddetta classe dominante con il nome di populismi, sovranismi, complottismi. C'era in sostanza un purtenue risveglio dei popoli sofferenti. Il compianto Giulietto Chiesa coniò una efficace formula parlando di guaiti dei popoli sofferenti che si esprimevano in forme non coerentizzate spesso ma chiare. Quando la Grecia nel 2015 vota no al referendum a favore dell'Europa e della prosecuzione delle politiche di austerità depressiva. Quando il popolo inglese vota per il Brexit, quando negli Stati Uniti votano per Trump e non per la Clinton, cioè per un candidato che è sempre interno al sistema capitalistico ma non è quello voluto dai signori del capitale. Quando in Italia vince il no al referendum costituzionale voluto da JP Morgan e dai grandi gruppi bancari appoggiato in Italia dai loro maggiordomi locali, lì sono momenti di risveglio della coscienza oppositiva. Ecco occorreva evidentemente cambiare il registro, mutare il passo della globalizzazione capitalistica perché il consenso era scricchiolante, cominciava a incrinarsi. Con questa svolta che abbiamo registrato e che stiamo registrando abbiamo esattamente un dominio in assenza di consenso, un dominio che diventa sempre più palesemente autoritario, a tal punto che nei suoi rari momenti di onesta autocertificazione dice testualmente di essere un regime molto stringente. Attenzione, si badi, sarebbe una pura ingenuità pensare che ciò che sta accadendo sia limitato e circoscritto all'Italia, doveppure è presentissimo. Ciò che sta accadendo è su scala planetaria, è un rimodellamento del capitalismo su scala planetaria. Del resto, mentre stiamo parlando, in Germania hanno cercato di bloccare una manifestazione adducendo la scusa del divieto di assembramento e delle norme igieniche. Mentre stiamo parlando, in Spagna il governo di Sanchez ha schierato l'esercito per combattere la diffusione del virus, militarizzando il paese. In sostanza è, ripeto, una riplasmazione autoritaria di quello che ho chiamato il capitalismo, che diventa capitalismo terapeutico. Ed è un totalitarismo, se vogliamo usare queste parole forti, ma che almeno scuotono le coscienze, inducono una più critica riflessione. È un regime diverso da quelli del Novecento, con i quali pure conserva alcuni tratti di vicinanza. Ogni regime novecentesco, rosso o nero che fosse, si fondava sul divieto di assembramento. In Italia, ad esempio, ricorderanno alcuni che furono del 1926 le norme sul divieto di assembramento legate alle leggi fascistissime. Perché i regimi debbono impedire l'assembramento, perché dove le persone fanno assemblea possono mettere in discussione l'ordine del regime. Il nuovo regime è più scaltro rispetto a quelli del passato, perché vi vieta il diritto di assembramento, ma dice che lo fa per il vostro bene. È un regime protettivo. Se vi impedisce di uscire di casa, se vi impedisce di stare con l'altro, se vi impedisce di riunirvi in pubblica assemblea e di manifestare, lo fa per proteggervi. È il primo caso di regime protettivo, che dice, questo è l'inganno subdolo di questo regime, dice che vi toglie la libertà ma per il vostro bene, che vi toglie la libertà ora per darvela più grande domani. Ma bisogna sempre diffidare di chi ci toglie la libertà con la promessa di restituircela ampliata. bisogna sempre diffidare di chi ci promette la salute a costo della libertà. In fondo è una delle lezioni che traiamo dalla fenomenologia dello spirito di Hegel, che forse è il punto culminante della coscienza storico occidentale. Chi per fare salva la vita rinunzia alla libertà va sotto il nome di servo. Questo è il punto fondamentale. Quanta libertà ci chiederanno ancora di mettere in congedo per avere salva la vita? Questo è il punto fondamentale. A quanta libertà vi chiederanno? A quanta libertà siete ancora disposti a rinunziare pur di fare salva la vita? Questo è il punto. E soprattutto possiamo noi rinunziare ad alcuni articoli fondamentali della Costituzione in nome della sanità pubblica? Ricordo per inciso che la nostra Carta Costituzionale menziona tra i primi articoli la sovranità popolare, la democrazia, il lavoro e solo molto più avanti menziona le questioni della sanità e della salute. Questo vuol dire non certo che non abbiano valore, ma che mai si sarebbero sognati i padri costituenti di mettere in congedo democrazia e libertà in nome della salute? Loro che erano anche morti, che hanno dato la vita, che erano reduci di una stagione di lotte per quei valori. E ora invece ci troviamo proiettati in un mondo in cui d'improvviso ci chiedono di rinunziare alla libertà, alla Costituzione e ai diritti fondamentali per fare salva la vita. Sono stati conteggiati almeno nove punti della Costituzione messi in congedo durante il lockdown. Dalla libertà di movimento alla libertà di iniziativa, dalla libertà di culto alla libertà di espressione, grazie alle task forces contro le fake news. dalla libertà di proprietà anche, per chi aveva la casa e non poteva raggiungerla, e così via. Ecco, questo è l'ordine nel quale ci stiamo trovando. Naturalmente il capitalismo terapeutico non si fonda tanto primariamente sulla teologia economica, che era la base del precedente modello pre-Covid. La nuova teologia è quella scientifico-medica in questo caso, e la distingo attentamente dalla medicina e dalla scienza. Quello che sta oggi prevalendo è uno scientismo dogmatico settario che poco o nulla ha a che vedere con la vera scienza. La vera scienza procede, ci insegnava Galilei, per sensate esperienze, provando e riprovando, per congetture e confutazioni. Non con task forces che silenziano il dissenso, non con patti trasversali che diffamano e stigmatizzano gli scienziati non allineati. Se c'è uno scienziato che dice cose false, va confutato scientificamente. Così procede la scienza, non con l'inquisizione, la stigmatizzazione e il silenziamento. Ecco, siamo al cospetto di una vera e propria teologia scientifica che si freggia del nome di scienza per proporre contenuti che in realtà poco o nulla hanno di scientifico. Intanto il mito del dato di fatto, i dati di fatto che vengono sempre evocati, evocati costantemente anche con i quotidiani bollettini che ci riportano minuziosamente i dati. I dati sono inconfutabili, è la realtà che ci parla, dice la scienza. Permettetemi allora una piccola nota ermeneutica su questo tema. I dati di fatto non esistono sganciati da una narrazione che li esponga. Ogni dato di fatto è già inserito in una interpretazione. Già solo il dato di fatto che scegliete di dare risponde a una precisa interpretazione. Non c'è mai un oggetto sciolto dal soggetto, non c'è mai un dato di fatto che non risponda a un'interpretazione. Vi faccio alcuni esempi. Questo vuol dire che, non certo, non esistono narrazioni vere e narrazioni false, niente affatto. Esistono e come, ma esistono narrazioni che si richiamano ai dati di fatto e non di meno hanno un intento chiaramente ideologico e politico. Vi faccio alcuni esempi fondamentali, credo. Quando vi dicono quotidianamente che sono aumentati i casi, vi riportano il numero dei casi aumentati, senza dire però, o specificandolo in una nota a margine, che sono aumentati i tamponi, stanno certamente dandovi un dato di fatto, ma inserito in una cornice interpretativa molto precisa. Quando ancora, e notizia di oggi, sul Corriere della Sera, 29 agosto 2020, vi dicono di una persona morta e registrata come morta di Covid, benché non le fosse stato fatto il tampone e la salma risultasse, cito, indeterminata e quindi da considerarsi morta di Covid, capite bene che ci troviamo in una dimensione in cui il dato di fatto è ampiamente rispondente a logiche che non sono dati di fatto. Quello che vorrei dirvi è che i dati di fatto vengono sempre inanellati, presentati, scelti o non scelti, all'interno di cornici che non sono a loro volta dati di fatto. Lo scienziato opera con dei presupposti ermeneutici che non sono dati di fatto, sceglie a quali dati di fatto riferirsi, a quali no, quali dare e quali no. Bisogna quindi depurarsi da questa concezione ingenua della scienza. Diceva Martin Heidegger che la scienza non pensa, infatti è così, la scienza calcola, non pensa. La scienza è bravissima nel calcolare, la migliore che vi sia nel calcolare, ma non pensa proprio perché vive in questo mito del dato di fatto. Vi faccio per inciso, la vicenda di oggi è curiosa perché se già prima di oggi vi erano delle riserve sul fatto che venissero presentati come morti di Covid, tutti coloro i quali morivano avendo in corpo il Covid, adesso abbiamo appreso da oggi che vengono presentati anche come morti di Covid soggetti che non avevano il virus in corpo, che se lo avevano non è stato dimostrato che lo avessero. Questo è il punto. Quando scrivi salma indeterminata, senza tampone, quindi da registrarsi, morta di Covid, questo mi stai dicendo, che non è dimostrato che avesse il Covid. Ma torniamo a quello che avveniva prima. Per mesi ci hanno detto che si moriva di Covid, senza distinguere le morti realmente avvenute a causa del Covid dalle morti avvenute con il Covid. Vi faccio un esempio semplicissimo. Se io vado a correre sul lungomare di Riccione, supponiamo, una macchina sciaguratamente esce di strada, mi investe e mi uccide, se all'ospedale risulta che io avevo il Covid in corpo, benché fossi asintomatico, risulterò morto di Covid. Questo è quello che è avvenuto nei mesi scorsi. Chiaro che sono dati di fatto. Avevo il Covid in corpo? Certo che sì. Ma sono morto di Covid? Questa è la domanda da porre. Ancora una volta vedete un dato di fatto fornito all'interno di una cornice ermeneutica che non è un dato di fatto e che è anzi una precisa linea ermeneutica. E qual è questa precisa linea ermeneutica? Semplicemente questa. Quella di restituire e costruire ogni volta quello che gli inglesi chiamano il worst case scenario. Lo scenario del peggior caso possibile. Perché è quello atto ad alimentare, a mantenere viva, l'emergenza rappresentata e quindi le misure di emergenza connesse. Se infatti non ci fosse la rappresentazione dell'emergenza non avrebbero più senso le misure di emergenza. Ecco perché l'ordine terapeuticamente corretto deve narrare continuamente un'emergenza addirittura crescente per poter mantenere o addirittura potenziare le tendenze in atto. Mito dei dati di fatto. Tendenze della globalizzazione che sono state tutte potenziate dal virus. Si può notare agevolmente come questo virus sia un virus di classe. Chiaramente sta dalla parte dei dominanti e contro i dominati. È un virus che potenzia tutte le tendenze della globalizzazione e le accelera. Molto banalmente non ha colpito tutti in egual maniera questo virus. I grandi gruppi e-commerce ne sono usciti potenziati e giubilanti. I grandi gruppi finanziari addirittura a marzo scommettevano e facevano grandi affari di lucro su questa emergenza. Ebbene, mentre invece ne è uscito massacrato ancora una volta il ceto che vive del suo lavoro. Le classi lavoratrici, i ceti medi, le partite IVA, che sono il nuovo proletariato marxiano nel nuovo millennio. Tutti i lavoratori ne sono usciti distrutti da questa pandemia, che è stata una pandemia di classe, che sta potenziando la tendenza della globalizzazione a creare una piramide, una società di collettivismo neoligarchico con una massa di plebei privati di diritti e di condizioni di esistenza basiche e al vertice una ristretta oligarchia neofinanziaria e bancaria che vive lucrando e facendo i suoi affari. Altro punto fondamentale delle tendenze della globalizzazione è la traslazione della società in rete. Era già una tendenza in atto. Già si parlava di università telematiche, di lavoro da casa. Con la nuova modalità si è velocizzato il passaggio, si è velocizzata una tendenza, si è creata appunto questa nuova società in cui si è potenzialmente connessi col mondo intero ma si è poi concretamente isolati davanti al proprio terminale, soli e quindi impotenti a rovesciare l'ordine delle cose. Altra tendenza in atto è la tendenza all'autoritarismo post-democratico. Pensate anche solo alle task forces. La nuova tendenza è creare l'expertise neoliberista. Giunte tecniche che si presentano come tecniche superparte, salvo poi essere composte puntualmente da top manager liberisti che neanche operano in Italia ma stanno nella city londinese per salvare l'Italia. Non si capisce bene con quali piani e soprattutto perché dovrebbero salvare la patria loro che hanno agito per anni in nome del grande capitale multinazionale e apolide. Altra tendenza fondamentale con la crisi emergenziale stiamo superando l'epoca delle democrazie borghesi parlamentari. Le democrazie borghesi parlamentari erano fondate sull'idea della tripartizione dei poteri. Con l'emergenza non c'è tempo per passare dal Parlamento. Con l'emergenza ci vuole il potere dell'uomo solo che può direttamente chiederlo come è avvenuto in Ungheria, può direttamente prenderselo senza chiederlo come è avvenuto in Italia, con tutta una serie di conseguenze paradossali da un punto di vista giuridico e politico. Perché i DPCM, quale tipo di legalità avevano i DPCM? Com'è possibile che ci sia uno scavalcamento del potere legislativo da parte del potere esecutivo? È finita la tripartizione dei poteri in questo modo. Ci troviamo al di là della classica tripartizione del potere. Ma c'è l'emergenza, c'è il virus. E' proprio questo il dispositivo. Deve esserci appunto questo dispositivo per cui tutto l'ingiustificabile si giustifica con la presenza del paradigma. che si giustifica in nome dell'emergenza temporanea, salvo poi l'emergenza stessa farsi infinite, quindi infinite le misure d'emergenza che diventano nuova normalità. Mi avvio alla conclusione. Due categorie su tutti mi hanno colpito per il loro rumoroso silenzio, per il loro assordante silenzio. Una categoria è quella dei giuristi. Come ha scritto il filosofo Giorgio Agamben, perché tacete giuristi nel vostro campo? Non si sono sentite poi molto le voci di giuristi che protestavano? Certo, qualcuno c'è stato, Sabino Cassese, e pochi altri in verità. Perché non c'è stato, come sarebbe stato giusto in realtà, una presa di posizione rispetto a quello che avveniva? Mi colpì un'intervista paradigmatica del costituzionalista Sabaudo, Gustavo Zagrebelchi, sul Fatto Quotidiano, primo maggio, che titolava grossomodo così, chi parla di violazione della Costituzione non sa quel che dice. Mi colpì molto quel titolo perché io ero uno di quelli che parlava di violazione della Costituzione e ne parlo tuttora per le ragioni prima enucleate. L'intervento di Zagrebelchi era lucido e puntuale, diceva è vero che è stato marginalizzato il Parlamento, è vero che sono sospese alcune norme della Costituzione, ma ciò in una durata temporale legata all'emergenza, quindi non siamo fuori dall'ordine costituzionale. E l'intervista si interrompeva con queste precise analisi di Zagrebelchi. Quello che Zagrebelchi tuttavia non diceva e che invece mi sarebbe piaciuto domandargli è questo. Ma cosa capita se l'emergenza non finisce? Cosa capita se l'emergenza si cronicizza? Cosa capita se dopo questa emergenza subito ne subentra un'altra, come già l'OMS va ripetendo da tempo? Significa che ciò che vale per l'emergenza diventa normalità nella misura in cui normalità diventa l'emergenza. Questo è il punto. E diventa nuova normalità. Convivere con il virus, dicono già. Altra categoria che mi ha colpito per il suo assordante e preoccupante silenzio è quella della Chiesa di Roma. La Chiesa di Roma ha subito quasi, si è adattata camaleonticamente al nuovo capitalismo terapeutico, si è adattata alla nuova teologia scientifica, ha riconosciuto quasi il primato della scienza rispetto alla teologia. Se penso alla grande funzione sociale del cristianesimo, se penso a Francesco con i lebrosi, San Francesco ovviamente con i lebrosi, se penso all'immagine che trovate splendidamente raffigurata a Domodossola, di San Carlo che comunica gli appestati, ecco, lì trovate la grande funzione sociale della Chiesa, di rivolgersi agli ultimi concretamente. Invece la Chiesa ha mantenuto l'ordine terapeutico senza contrastarlo. Addirittura adesso si celebrano le messe con il gel all'ingresso, con le nuove norme terapeutiche. Ci sono stati, è vero, alcuni gloriosi preti che si sono posti a questi. Voglio ricordarne uno in provincia di Cremona che celebrò messa durante il lockdown eroicamente, finché non arrivarono le forze dell'ordine a interrompere quella cerimonia. Fu una scena raccapricciante, a mio giudizio. Non credo che ai tempi del nazismo, dello stalinismo, si registrassero scene di quel tipo, debbo dire, scene in cui viene interrotta una cerimonia in nome del distanziamento sociale. Ripeto, costituzionalmente garantito. La Costituzione parla di libertà di culto, del tutto a prescindere dal fatto che uno sia credente oppure no, intendiamoci. Come parla anche di libertà di movimento, come parla anche di libertà di pensiero, e così via. Ecco, tra l'altro, quando la CEI insorse contro il divieto di culto, mi ricordo benissimo che Papa Bergoglio, anziché appoggiare, come sarebbe stato opportuno, i preti dissenzienti, disse che bisognava obbedire al governo. Una Chiesa che obbedisce al potere temporale ha smarrito la sua funzione. I due soli di Dante non ci sono più, uno si è oscurato evidentemente. Ecco, come andrà a finire? Chiudo con queste note che non saranno particolarmente edificanti, non tratteggeranno un futuro a tinte azzurre. Io credo che quella che stiamo vivendo sia una nuova modalità di governo, sia una nuova figura, l'ho chiamata capitalismo terapeutico. Credo che non ne usciremo molto in fretta. Credo che quella che stiamo vivendo sia una pandemia yo-yo, l'ho chiamata più volte, o pandemia del rocchetto, se vogliamo italianizzare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dopo la fase 2 si tornerà alla fase 1, non si uscirà. E di più si tornerà alla fase 2 perché alla fase 1 perché voi siete stati incapaci di adattarvi alle norme sanitarie, al nuovo regime del distanziamento sociale, alle mascherine sempre e comunque anche in plein air dopo le 18 ecco quindi si tornerà alla fase 1 per colpa vostra. Per inciso negli Abruzzi è già stato istituito un nuovo lockdown in un paesino degli Abruzzi, il primo dopo la lunga fase dell'estate. Si tornerà alla fase 1 dopodiché si tornerà poi alla fase 2 ma di nuovo non avrete ben metabolizzato le norme del capitalismo terapeutico e quindi non avendo saputo tenere i conti dei contagi in ordine i conteggi dei contagi in ordine si tornerà ancora alla fase 1 e poi alla fase 2 come uno yo-yo che avanza e ritorna e che non finisce mai o meglio finirà quando? Quando il nuovo ordine terapeutico sarà stato interiorizzato introiettato non ci sarà più bisogno di un potere che vi dica di portare la mascherina quando voi la porterete autonomamente non ci sarà più bisogno di un potere che vi imponga al divieto di assembramento quando voi non vi radunerete più di norma perché avrete dimenticato anche che cos'è quando l'abitudine avrà preso il sopravvento quando l'inammissibile sarà diventato il normale il quotidiano c'è una scena bellissima con la quale voglio chiudere che fa parte della nostra letteratura occidentale che dobbiamo adoperarci affinché non si realizzi oggi una scena dell'amleto shakespeariano ma neanche il vento potrà fermarci ma una scena bellissima a un certo punto amleto stupito vede il becchino che sta seppellendo i morti e canta fischietta amleto dice ma è pazzo costui perché come fa a fischiettare mentre dà sepoltura ai morti l'abitudine lo rende tale l'abitudine lo rende tale ecco adoperiamoci perché l'abitudine non ci renda tali abituiamoci perché l'inaccettabile non divenga il normale ciò che accade tutti i giorni non è in quanto tale normale grazie